Start, stage, tirocini, alta formazione, ricerca territorio. Il progetto di orientamento in uscita dai corsi di studio varato dall'UDA. Il servizio placement si occupa di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro rivolgendosi a studenti, laureati, aziende e dipartimenti di Ateneo. Il placement incrocia domande e offerte di lavoro, eroga consulenze ed organizza workshop, seminari ed eventi in collaborazione con aziende e specialisti del settore. I numeri del placement sono importanti, solo nell'ultimo anno questa sinergia ha permesso di finalizzare 75 contratti di tirocinio retribuito. Ateneo